Ciao da Clelia, volete partire per un campeggio ma avete paura di non poter mangiare il vostro piatto preferito? Beh, tutto quello di cui avete bisogno è un fornello elettrico. Un fornello elettrico è un oggetto molto utile per chi viaggia spesso ma può essere altrettanto comodo anche nell'ambiente domestico. In commercio ne esistono molteplici ma prima di procedere all'acquisto mi hanno preso in considerazione alcune caratteristiche peculiari che contraddistinguono i vari modelli. Oggi andrò ad elencarvi quali punti tenere in considerazione quando andate a sceglierne uno. Cominciamo! Numero 1, materiali. I migliori fornelli elettrici sono progettati in modo tale che le piastre vengono rigorosamente realizzate in ghisa. Le basi sono in generale costruite in acciaio inossidabile o in altri metalli. Questi due materiali notoriamente solidi e resistenti garantiscono al prodotto un'ottima resistenza ed una buona aspettativa di vita. Solitamente i fornelli elettrici hanno un termostato incorporato molto utile per gestire il calore emanato dal fornello ed evitare così un'usura eccessiva. Numero 2, potenza. Quando si valuta la potenza dei fornelli bisogna tenere in considerazione una serie di parametri. Se vi accontentate di un fornello con basse prestazioni allora potete optare per una potenza di 650 o 800 watt e magari un unico fuoco. Tale soluzione si rileverebbe più economica e persino più pratica quando l'unica fonte di elettricità disponibile nel circondario esigua. Per un fornello di alte prestazioni è meglio optare per una potenza di 2000 o 2500 watt e un modello a due piastre in modo da poter spaziare tra diverse preparazioni ed eccellerare i tempi di cottura. Numero 3, sicurezza. La sicurezza è ovviamente un criterio di valutazione importantissimo per mettersi a riparo da tutti i rischi connessi all'utilizzo di un fornello elettrico. È bene accertarsi che questo sia fornito di un coperchio richiudibile. Un altro elemento utile a garantire la sicurezza degli utenti è la presenza di una base che evita al fornello problemi di stabilità e che possibilmente sia corredata da un piedini antiscivolo. Essendo un eletto domestico assicuratevi che ci siano tutti i bollini di garanzia sull'etichetta. Questi ultimi certificano il rispetto delle leggi europee e della sicurezza. Questo è tutto. Potete trovare il fornello elettrico perfetto per voi su vpmpower.com cliccando sul link riportato qui sotto in descrizione. Se il video vi è stato utile mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e lasciateci un commento. Ciao e alla prossima!